Ciao a tutti ragazzi, sono Enrico, 12222 dopo tantissimo tempo, dopo quasi due settimane io e Nikus ci siamo finalmente riusciti a ribeccare, ma non per la nostra non disponibilità bensì ma per problemi tecnici che ho avuto io soprattutto con Herzofyron, è stata una cosa terribile che Nikus è riuscito ad aiutarmi a risolvere proprio questa sera e quindi abbiamo deciso di riniziare così subito e continuare quindi la nostra campagna cooperativa Germania-Italia su Herzofyron 3, giusto? Esattamente, guarda, mi hai fatto dannare come non so che cosa ogni volta che non ti partiva sto gioco Il miracolo è dovuto fare, mamma mia Va bene, adesso comunque siamo qui pronti, la nostra situazione era quella che stavamo iniziando la conquista della Norvegia quindi stavamo marciando con tutte le nostre unità appena sbarcate sulla capitale Poi, per quanto riguarda la situazione di Nikus, ovviamente, è già arrivato a Della Lamain il nostro grande Nikus Tra un po' prende il canale Esatto, dopo che arrivo Abbiamo deciso che per quanto riguarda la situazione balcanica Europa dell'Est Io mi prendo la grande Jugoslavia, Nikus invece cosa fa? Grecia e Bulgaria Sì, mi faccio Grecia e Bulgaria E poi la Romania ce la spartiamo Sì, la Romania La Romania ce la spartiamo a metà e così via, no? Esatto Va bene Poi magari si prende qualcosa anche l'Ungheria Esatto Adesso magari io inizio a spostare quanto? Due corpi d'armata di fanteria? Bastano, ma sì, per dare Sì, due o tre corpi d'armata lì e via Anche due Se sono tutti pieni bastano due, anche uno ne basterebbe Sì, 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 tanto nemmeno ci mette tanto Poi vai diretto verso la capitale e la conquisti subito Ah, qua ho 41 divisioni, porca miseria Per il fronte orientale c'è un sacco di gente in attesa Poi dopo ce ne lascio una di queste magari Perché tutte, due corpi d'armata qua giù mi sembrano sprecati Non so Allora adesso faccio uno strategico redeploiamento Con questa divisione e anche il suo cosmo qua Poi dopo creo un nuovo quartiere generale Un nuovo comando di divisione Oh, non riesco a cliccare Mi sono scordato anche i comandi del gioco Porca miseria Non riesco a fare un riposizionamento strategico Va bene E poi? Beh, partire il tempo Sì esatto, partiamo con un tempo basso a 1 o 2, giusto? Sì Adesso fammi cliccare l'ultimo cosa Ok, ce l'ho fatta, ci sono riuscito Va bene, possiamo partire con il tempo Allora 1 o 2 No, perfetto Va, si è bloccato tutto, non più Ok Ecco, vediamo qui che c'è la vittoria su Oslo Chissà se si arrenderanno subito Anche se ne dubito fortemente Poi successivamente un giorno sbarcheremo in Inghilterra Vero Nikos? Eh sì, l'obiettivo sarà poi anche quello ovviamente Perché almeno ci sbarazziamo di questi maledetti inglesi Massacrano Ok, ho sbloccato un paio di cose Di tecnologia, vediamo un attimo Adesso posso produrre radar Mi conviene mettere un bel radar per vedere che fanno Ci metto troppo a costruirlo e avremo già conquistato Per quel tempo Sì, tendenzialmente sì Quindi non so quanto ti convenga Esatto Ingresso uguale banna, state registrando? Sì Grato Vabbè Dopo questa piccola interruzione Esatto Stendiamo un vero pietoso Per il signor Bubi Ricordiamo chi è il signor Bubi Bubi TV Lo sponsorizzi pure adesso Sì, il suo canale senza video Abbiamo vinto la battaglia di Oslo Adesso qui ci metto le nuove unità Che poi le mettiamo insieme In un'unica e grande nuova Forza Ok, dovremmo aver vinto la battaglia di Oslo Adesso vediamo cosa succede Per quanto riguarda Caspita, per quanto riguarda la tecnologia Oltre 4 punti da spendere Adesso iniziamo a migliorarci tutte le risorse L'attrition è meglio averlo più basso Quindi lei ci dice, Nikus Allora intanto iniziamo a continuare Andiamo a migliorare le nostre cose tipo di fanterie eccetera Ecco l'Arctic Warfare Poi cosa ci serve a me? Il deserto mi servirà o ci penserai tu per il deserto? No, lì ci posso pensare io tranquillamente Ok, quindi montagna Montagna in Russia non ci sono delle gran montagne però effettivamente No C'è solo l'Arctic Forse l'Arctic Hanno deciso L'Artico L'Artico l'ho già fatto Poi peraltro Ma penso nient'altro Serve Quindi continuo a migliorare le mie forze di fanteria con ricerche tecnologiche che riporteranno alla vittoria Beh si spera di sì Esatto Ok Poi vediamo un'altra divisione di alpini Creeremo un nuovo comando di alpini Stavolta però saranno alpini per il fronte orientale Ok, battleship anti-aircraft è stato migliorato Vediamo tecnologia Dov'è? Ok Allora miglioriamo altre cose delle nostre battleship Per quanto riguarda la situazione norvegese non siamo ancora riusciti però comunque a prendere il totale controllo di Oslo Forza, sta ancora arrivata, beh ci metterà ancora poco ad arrivare dai Ma, sono tipo quasi a metà strada, anzi un quarto della strada per l'arrivo Sto continuando a spam reclutare divisioni Eh sì, continuo a spostarle lì maledetto No, no, ti dico, no, anch'io mi arriva una divisione nuova al secondo Non pensavo, vediamo la produzione, diamo un'occhiata Comunque adesso io le sapplis le abbasserei No, adesso stanno calando quindi no, tanto vale lasciarle così Qui, boh, siamo tutti abbastanza a posto A parte adesso che di rinforzi non stiamo spendendo granché Io sto cercando intanto di intercettare i bombardieri inglesi che ti stanno attaccando Ah, oddio, grazie mille Sì ma... Non ci riesci neanche tu Non ci riesci neanche tu Cioè i bombardieri fanno fuori i mitici calci italiani Cos'hai, gli MC202 o addirittura i CR42 Falco Ecco c'è anche Udet, Udet non li riesce a beccare proprio Gli passano attraverso, lui ciao ciao Non li vede Ma penso davvero i puffi Non c'è scritto, vediamo No, ma non li fa vedere No, aspetta Oh, l'MC200 L'MC200, quello che non ha neanche la cabina chiusa sopra Eh sì, praticamente Ah, i ricordi di War Thunder Ti giochi più a War Thunder? Quello lì dei carri che tu facevi super carri di War Thunder di Nikus Sì, sì Guarda che hai i bombardieri inglesi che ti sono arrivati a Bolzano Oddio Erano lì due secondi fa, non so Se sono portaerei o cose del genere Ma non credo ti si siano infilati nell'Adriatico No, non credo Secondo te è un azzardo aumentare a tre dato che qui le mie unità non arrivano più? Eh, prova ad aumentare dai Vediamo se esplodiamo Perché se no qui diventiamo vecchi Vai, ci stanno arrivando le mie unità a Oslo Pianino, pianino Proprio della serie Lento, lento Ci hanno riattaccato Ma noi abbiamo... Ok, Oslo è nostra, perfetto Quindi adesso possiamo essere... Ma io non credo si arrenderanno tanto facilmente Oddio Oh mio Dio Mettiamo in pausa perché è un momento storico Minchia, ma l'hai proprio conquistata Ho conquistato la Nor... Cioè, proprio la Norvegia è nostra Cioè, è una cosa assurda perché noi siamo la... La Norvegia siamo noi Proprio... Non lo so, guarda, non so che dire Ma adesso qui, dato che ci sono... Dato che ci sono quattro porti in croce Io... Io ci metterei magari un'unità di quelle di guarnigione per porto, così Sono a posto Senza bisogno di metterci granché Dato che ne ho fatte tante Di quelle lì almeno servono a qualcosa Sì, sì, sì Aspetta, guarda, le avevo fatto SS Francia invece Sono... Allora, una intanto si muove molto velocemente qua Dove poi la tenderà l'imbarco E anche un'altra Magari, appunto, spostaci i garrison e mettici lì Porta lì Esatto, esatto E via Poi ce ne... Li portiamo tutti su? No, qualcosa in Francia? Alla l'altro? Sì, sì, sì No, ma secondo me portarli su Ah, quindi dici che le garrison le tengo tutte in Norvegia, così là le... Porta due per porto Due garrison per porto Ok, quindi otto queste qui vanno bene, no? Sì E poi gli altri li metti magari in qualche porto qua francese È qualche garrison così Quindi ne mandiamo, tipo... Ne mandiamo... Io ne ho otto, no? Qui ne mando Queste otto di qua? Sì Magari me ne tengo una per la Francia Che ne so Una, due Boh Beh, ma ne hai dovessi averne sedici, mi pare Sedici? Ah no, hai sedici... Sedici birgate, scusami Sono quelle otto lì Poi ce n'è qualcun'altra in Polonia Vabbè, ma quelle stanno tenendo i territori polacchi Centinaia di chilometri polacchi Esatto Allora, poi... Ma queste unità che ormai ho fatto sbarcare Non lo so O le convoglio a Nord Per poi l'invasione della Russia anche dal Nord Anche perché poi... Sì, l'ideale Le invio lassù lassù Anche perché poi Svezia e Finlandia Io non ho idea di che cosa abbiano intenzione di fare Ma ho detto proprio sinceramente L'ideale sarebbe riuscire a far venire la Finlandia Ad averceli a tutte amiche Ok, partiamo col tempo intanto così possiamo partire anche con la Jugoslavia, no? Sì Eh, l'ideale sarebbe quello Adesso diamo un attimo un'occhiata alla diplomazia quindi Ora tanto sono miei vicini La Finlandia... Allora, la Svezia sta andando verso gli alleati La Finlandia invece viene con noi di 20.77 Quindi... Perché la sto influenzando Ah, ok Gli altri vanno di 28 sugli alleati però Quanto ci vuole a farla diventare... A farla entrare nell'assa, di invitarla nella fazione? C'è scritto da qualche parte Sì, dovrebbe esserci la cosa Invita in fazione e ti dice... Allora, questo valore di 30.76 deve essere più basso di 25 Perché dice che è troppo... Cioè dice... The value is 30.76 While it needs to be lower than 25 Ah, vabbè, dai neanche... Quanto ci vorrà secondo te? Militare... Accesso militare dalla Svezia va bene Così li facciamo amici, no? Facciamo amicizia così Facciamo amicizia Ok Infantry warfare Così ho l'organizzazione più alta Dov'è? Ok, questi continuiamo a ricercare proprio... Continuazione Ma... Va bene, grazie Vici mi chiede... Vuole l'energia Oh, guarda questi bombardieri maledetti! Continuano Sono assurdi Mi stanno facendo dannare come un sacco di cose Mi stanno cercando di intercettarli ma... Non riesco a fare più di tanto Così cacchio di... Aerei di carni Insieme per carni Oh, ho fatto il primo troop and transport flottiglie Quello proprio da sbarco sbarco Ottimo Ma i tuoi obiettivi qui non vanno più via? Vabbè Ok, siamo... Io li vedo ancora Ma... Ma... Sai quello è... Ma se tipo... Se andiamo noi però l'Ungheria ci... Ruba a metà del territorio, vero? Beh... Dovrei tipo fare una guerra limitata No, vabbè Ma tanto ora che sposta tutte le sue truppe... Cioè... Facciamo in tempo a prenderlo tutto noi Praticamente Quindi non dovrebbero esserci problemi di sorta Sei sicuro? Non è che ci troviamo dei brutti cosi verdi Tipo prende Belgrado Un embargo dagli uso Che vergogna No, dai Mi hanno fatto l'embargo Ma chi si credono di essere questi USA? Maledetti Ma chi si credono di essere? Eh... No, vabbè A questo punto quindi Non lo so che facciamo Diciamo ciao ciao a tutti Ah, fa un bagno Ho perso un sottomarino Chi te l'ha ucc... Chi te l'ha affondato Quel bellissimo sottomarino? Eh, l'inglese Che monelli Abbastanza Ma le Panzer Divisionen servono? No, no, no Qua sono posta Adesso sto puntando il canale No, ma dico Le Panzer Divisionen In Jugoslavia Servono? Ma no Ma no Ma no Anche perché all'inizio È tutta Agna Hai ragione Servirebbero qui gli alpini Solo che li ho tutti Li ho tutti lassù gli alpini No, no Prendi delle motorizzate Ma i miei carri sono Metà carri Metà motorizzata Io li tengo insieme Faccio due di carri Due brigate di carri E due di motorizzata Quando le faccio Quindi le ho tutte Con carro c'è anche la motorizzata Va bene, va bene Quindi boh Vabbè, secondo te Se metto addirittura 4 Cambia qualcosa? No, dai Lascia 3 Evitiamo di dichiarare Ok, ma che faccio? Dichiaro la Non è che posso dichiarare La guerra limitata io Poi la dichiari pure tu? Non so se si può fare Da che poi io non posso Prima di entrare in guerra No, beh, se vuoi farla Falla, eh, amen Solo che da solo Mi uccidono, no? La Jugoslavia Stai scherzando, vero? Sì La Jugoslavia Distrugge le tedesche Allora c'è da preoccuparsi Va bene, dai Io Se no se faccio Faccio una dichiarazione totale Solo che stiamo attenti A stimonelli qua Tu proprio devi Devi correre subito, no? Corri subito Dietro le mie unità Ma tipo Se tu da Da Furzenfanzanzanzan Attacchi Ptui Ptui lo dà a me, è vero? Aspetta Sì, se quello di attacco Sì Che è proseguimento Del tuo territorio Ok, vai Allora Dichiaro la guerra Tu corri subito E taglia Mangiali via tutto il confine Più che puoi Aspetta solo un'altra Ok Perché voglio spostare Delle truppe in Albania Perché se no Me la conquistano Se no una divisione di alpini Ci fa comodo Una divisione di alpini Appena reclutata Alpini SS Sì Sì, dai Ok, allora Ho una notizia Ufficialmente il canale di Suez È italiano Wow Ufficialmente L'abbiamo fatta Facciamo Facciamo Un'armata L'armata Dei Balcani La sesta armata Oddio Questa è salingrada Esatto Brutti ricordi Allora Sesta armata Dov'è il QG Della sesta armata Eccolo Ok La sesta armata È la sesta armata Ok, quindi adesso La sesta armata È tutto questa L'unica cosa È che non hanno ancora Le sapple Gli alpini Vabbè Non li useremo Ma sì Tu metti li Poi Appena ce li hanno Intanto inizia Ad accumulare navi Nella zona Da cui sbarcheremo In Cornovaglia Futuro Chi lo sa Mi è crescita Un sacco La capacità Industriale Ah sì Ottima cosa Guarda qua Porca miseria Non so cosa sia Hanno smesso Di bombardarmi Gli inglesi Gli inglesi per 10 minuti Vuoi che sia quello No, magari Hai ricostruito Qualcosa Che ti avevo Distrutto Adesso sto facendo Un po' di ubotte Un po' di convogli Poi riparto Con fanteria Manetta Ok Allora Niente Quindi qui A questo punto Siamo arrivati Quasi No Poi per la Russia Quando ci allertiamo Più avanti Dopo la Jugoslavia Giusto per prendere Le manovre Di precauzione Esatto Va bene Stiamo andando Un po' lentini Però Non sta accadendo Che anche Dopotutto Una volta finita La Francia C'è solamente Preparazione Per la Russia E per Quanto altro Si voglia conquistare Poi Esatto Allora È pronto lei Quasi Si sta Si sta spostando Si Mi sta spostando Ok Si ci sono Ok aspetta un attimo Si stanno Supplissando Anche gli LP Quindi ok Io ti prendo Le regioni Così tu mi scappi dietro Poi li prendi Dal mio territorio E le dà a me Lo stesso Si 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 Ti stai anche Difendendo l'Albania Oddio Hai visto Si sono infilati C'è una flotta inglese Che sei infilata Nell'Adriatico Le hai visti Dove? Lì Nel basso Adriatico Cioè nello stretto Fai Tra Calabria Tra Puglia Albania Magari sono anche Sottomarini No era C'era una corazzata Di sicuro Si vede la corazzata Però Nonostante La perdita Del canale di Suez Le loro navi Continuano Beh hanno ancora Il porto Qua Tel Aviv Sì E Gbil No Sì Malta Anche Vero Malta E Gbil Terra E Cipro Tu sei pronto Oppure aspettiamo Che si spiazzino Tutte le tue Unità No vabbè Volendo Quelle lì Aspetta Un evento Che evento Ah Ultimatum To Grecia Ah quindi Stai per partire In guerra Con la Grecia Ah boh Qua mi dice Uri Get Ultimatum Suam Italy Event Pova farlo Ah Declare War Angra Hai già dichiarato La guerra Alla Grecia In Oktober Mussolini Mi sa di sì Caspita Solo che ti prendono L'Albania No dai Vabbè Allora Allora Facciamo Facciamo un Blitzkrieg E arriviamo giù Sì Ma a parte Finché non Clicco Sull'immaginetta Che mi è venuta Fuori No Ah non sei Ok quindi Io gliela dichiaro La guerra Sti Jugoslavi Sì Allora Mettiamo in pausa Per l'importante evento Declare war E la faccio War war Declarata Quindi Conquista No Sì Però se mi dà Conquista Poi la fa conquistare Tutta me Non una parte Anche a loro No 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 L'abbè fatta Conquistare Anche se una parte Se la prende lui Vero L'ungherese Tecnicamente Tecnicamente sì Poi vediamo Cosa deciderà Il gioco Allora Adesso sono tornato In su con l'unità nazionale Da 88 Sta risalendo Si vede che non Si vede che hanno smesso Di bombardare Siamo in guerra Adesso quindi Ufficialmente Perfetto Io vado di corsa Tu vai su Ptui Io vado proprio di corsa Per mangiare I territori agli ungheresi In modo che ci siano Prima i miei Che i loro Proprio sto facendo Una corsa Assurda Eh no Tu li vai lì Ok via 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 Gli attacchi iniziano Guarda l'Ungheria Come si mobilita Di massa A finire che ci prende Belgrado Non ci prende Belgrado L'Ungheria Vero Nikus No dai No no Corri Nikus Corri Vediamo se riusciamo A fare qualcosa Intanto qua L'Equador Mi chiede cose Che non mi interessa Ma come siamo messi Mi singialliscono Già un po' Le linguette Che non c'è proprio Il massimo Di cose Ma uno sbarco inglese In Norvegia È già possibile Scusa la mia No dai Poli precauzione La prendo però Adesso poi dobbiamo Imbarcare tutti questi qui Appena arrivano su Allora tornando Quaggiù Al nostro amato Territorio Che è successo Iugoslavia Niente Sono già 22 minuti Che facciamo Proseguiamo fino al minuto 25 Sì dai Va bene Magari si Aumenta 4 Oh niente Lo stesso qua Non riusciamo ad avanzare Ah Imbarco Anche a te Vabbè Che sono le montagne Guarda gli Iugoslavi Che bombardano gli Ungheri Guarda vedi l'Ungheria Che si mangia il territorio Guarda che bastardi Ma la guerra alla Polonia Si è scattata con un evento Si è scattata perché Ho cliccato su conquest No Tecnicamente Dovrebbe essere un evento Ah Quindi è per quello Che se ne è presa un pezzo Anche la Lungheria Questa Indipendentemente da chi la conquista La dovrebbe andare Tipo tutta me Vero Sì Sì È per questo Perché Poi vedremo Dai Correte Uomini Arrampicatevi Sulle montagne Poi adesso bisogna Che ci organizziamo Qua tutte le divisioni Per la difesa Quelle per l'attacco Ok Manpower Più 70% Continua a fare L'agricoltura Tutta quella Quella roba lì Svizzera Ok Mi stanno attaccando Ottimamente No Guarda Guarda gli ungheresi Guarda gli ungheresi No Oddio Così conquisto il territorio Per loro Arrivi prima tu A putti Lì 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 Sì In quel modo lì Enrico Si Territore Per voi Che abbiamo vinto La battaglia Di putti Mamma Come sono organizzati male Aspetta Abbasso un attimo Trempie Sennò qua Mi si sta impallando tutto Io sono organizzati male I tuoi miei Gli ungheresi Non necessitano di riparazione Ormai che servono Cioè ma guarda gli ungheresi Va a finire che ci prendano tutto No dai Sei tu l'esperto Nikus Va a me è il territorio Non all'Ungheria Vero Tecnicamente si Tecnicamente si Oddio aspetta un attimo Porca miseria Sono andato tipo che ho Ho talmente capacità industriale Che ho troppe poche cose In corso di Addestramento Oh madonna Ho tipo 353 Ero a 280 All'inizio di questo video Faccio fanteria E anche carri Un po' no Poi li distribuiamo Magari pesanti Poi leggeri Così Giusto per essere amici Poi li mandiamo su e giù Esattamente A seconda di quello che serve Poi via via Ok L'Ungheria qua Si è mangiato un po' di Polonia E si sta mangiando anche l'Ungheria Ma non si può togliere dall'alleanza E schiacciarla Io la conquisterei Eh? No no seriamente No 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 Come mai? Ho preso Zara Ma si ma comunque vedrai che non ti rimarrà a te poi Sono sicuro Ne sei sicuro al 100%? Si si Vabbè se abbiamo la sicurezza di Nikus qual è il problema? Niente siamo a 26 che facciamo? Stoppiamo Si dai direi che per questo Va bene per questo è a posto Vi salutiamo a tutti Poi al prossimo ci organizziamo un po' di più Al prossimo distruggiamo tutto Adesso è stato il primo rinizio dopo tanto tempo Esatto Va bene detto questo vi salutiamo Ciao a tutti e ad un prossimo video Ciao a tutti ragazzi